Giacomo, Jack Bellay, nuovo arrivo all'Atlantid, pallavolo Brescia, un ritorno a Brescia per te perché eri già passato per Montichiari qualche anno fa, come ti trovi in questi primi giorni di preparazione? Mi trovo benissimo, adesso con i ragazzi si sta iniziando a creare un gruppo che mi sembra che abbia basi solide per diventare qualcosa di importante, ci sono molti giovani che stanno crescendo già dai primi giorni, quindi questo è un buon inizio. Tu sai che nell'Atlantid c'è il progetto giovani, quindi ci sono i tre vecchi, tra virgolette, ci sono i più vecchi di te, però i tre vecchi che hanno grandi responsabilità, diversi magari da quelle delle altre squadre, no? Sì, in questo progetto è l'entusiasmo che muove tutto, quindi è più facile per noi tre allenarci e essere sempre al 100%, e poi è normale che se riusciamo a trasmettere qualcosa che ci portiamo dietro, soprattutto Ciso e Tibe, che hanno molto più esperienze di me, riusciamo ad essere da esempio per i giovani che riescono ad apprendere da noi le cose migliori, questo insomma ci fa onore senza dubbio. È una categoria che comunque tu conosci molto bene, questa Serie 2, quindi potrei dire assolutamente la tua. Spero di sì, poi vediamo, stai facendo, poi queste nuove formule che cambiano ogni anno lasciano sempre un'incognita su come andrà il campionato, perché non si capisce bene, poi ci saranno rimescolamenti dei due gironi, quindi è difficilissimo intuire adesso come potrà andare la stagione, però insomma i nostri obiettivi ce li abbiamo chiari, quindi fare bene ogni partita e prendere i maggiori punti possibili in ogni gara, sicuramente questo è l'obiettivo delle prime gare. Buona preparazione e in bocca al lupo. Crepi, grazie mille, ciao ciao.